Anche io l'ho fatto, sai? Ma perché se mi farei un passo sopra? Ma perché se mi farei un passo sopra? Ce l'ha già. Ma prendiamo la mamma. Sta a fare un lezzolino. E sedetevi allora. Non passare là. Con questa gelata o con l'altro? Non c'è un caglio. Ma tu che usi? No, 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 che si è mancata la camera. No, 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 che si è mancata la camera. Sì. 125 euro, dove paghiamo se fate acqua? Ma vorrete, la giornata... E' male lo sbattere. Madonna, ci ha messo l'acqua. Rosa! Ah, mi sta bruciando la tezza. E' vero? Vero, l'acqua ci ha messo. Dimmi te c'è la... 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 la cosseggianata. Qui? Da qui? Hai male. E se va bene? O è forte? Grazie a tutti. Grazie a tutti. La frettata di spinaci, peperoni con acciughe. No, queste sono le peperoni. Che peperoni? Queste sono le porfette. Ma Giuseppina non ce l'ha levata? Una goccia, sì. Giuseppina è allo mare e si mangia l'acqua salata. Pena viene da mare. Che sposa le cartelle bollege. Buon appetito, cara Giuseppina. Non ci andiamo a fine. Sì, se in apriano andò. Che si parla siciliano. Parliamo in siciliano come parlano americani. Lo zì. Guarda. La tua gaga si sposta. Tre crepene. Che c'è io fare? Manca questo. Questo manca. Non passare davanti. Non passare davanti. A me vedere com'è sta pasta. Questa è pasta al forno siciliana. Giuseppina la mangio tutta io. No, sta facendo. Alla telecamera sta facendo il video. Questa è pasta al forno. Non ho parlato a Giuseppina. Giuseppina. Mangiate l'acqua del mare. Chi è ma? Ora glielo spedizzo. Ma ma è tutta all'uomo da mare. Che c'è a caire? Sì, sì. Ora accendi la luce di qui dentro. Cassa parola. All'oscuro. Buon anno. Per tutto l'anno. Per tutto l'anno. Grazie